Questo è del Dirac, con cui sono vari posti, Medjugorje. Uno studio che è un piccolo microcosmo di cimeli e frammenti del passato. Paolo Siccardi, fotoreporter torinese di 62 anni, ha viaggiato tanto nella sua vita, dall'Afghanistan al Medio Oriente, dall'Africa all'Ucraina, sempre con una macchina fotografica tra le mani per documentare la guerra e le crisi umanitarie. Ho iniziato molto giovani, in un periodo particolarmente storico a Torino, che erano gli anni Ottanta, per cui la fine del terrorismo. E ho iniziato facendo la cronaca locale, ovviamente. Si faceva la cronaca, il terrorismo e ovviamente le lotte operaie, le manifestazioni. E poi poca volta il mio intento era quello di staccarmi dal mondo torinese, per cui ho cominciato a viaggiare e fare altre cose legate sempre al mondo del sociale. Il suo primo reportage all'estero, in Afghanistan, ha soli 23 anni. All'epoca c'era la guerra sovietico-afghana. Per ritornare alla prima volta in Afghanistan nel 1986, io andai con i Mujahideen, all'epoca l'armata rossa aveva invaso l'Afghanistan. Avevo visto dei bombardamenti al fosforo, per cui chiesi di essere portato dove stavano bombardando, perché ero una vallata, ero dall'altra parte della valle, chiesi di essere portato lì. E questi di fatti mi dissero, ma tu sei pazzo, no? Assolutamente, no? Per cui anche l'incoscienza, ma anche il non sapere magari che cosa vuole dire lì, i bombardamenti al fosforo, una serie di altre cose. Avevo comperato un carabiniero in Afghanistan, che si è venduto. In Siria, per esempio, con una serie di altri colleghi stranieri, tramite ovviamente dei fixere locali, ci portavano in certi front line, ovviamente, di quartiere, e poi ci venivano a riprendere magari verso sera, no? Per cui io onestamente, quando vedevo che incominciavano di diventare buio, questi non arrivavano a recuperarci, non ero molto tranquillo. Oltre alla Siria, nel 1987 segue la rivoluzione sandinista in Nicaragua. Quando scoppia la Prima Guerra del Golfo, lui è in Giordania, e documenta anche i conflitti nell'ex Jugoslavia, in Medio Oriente, Alto Golan e Gaza. Poi dobbiamo una granata. E poi, vabbè, questi sono i reperti che si portano via della Jugoslavia. Una dedizione per il lavoro così grande che lo porta a raccontare anche la condizione dei bambini in Bielorussia. Poi in Africa, per documentare l'emergenza umanitaria in Senegal, Costa d'Avorio, Togo. E a partire dal 2015, invece, inizia a seguire il conflitto ucraino nel Donbass. Allora, io ho iniziato a seguire le istruzioni in Ucraina al primo anniversario di Maidan, quello che era stato a Kiev. Da lì mi sono spostato con altri colleghi nel Donbass. Io sono sempre stato dalla parte ufficiale, governativa, diciamo. Ho seguito direttamente in prima linea con tutti quelli che all'epoca erano i battaglioni volontari dei soldati. E questa è una situazione che è esplosa dopo otto anni, è diventata ufficiale. Ma quando andavo io, ovviamente, parlavi con la gente normalmente. Cioè, ah, ma c'è una guerra in centro d'Europa? Ma non lo sapevo. E doveva comunque scoppiare, ovviamente, a livello mondiale, perché non potevano scoppiare. Ci sono voluti otto anni. Nei suoi scatti il bianco e nero prevale sempre, con forti chiaroscuri e contrasti tra luce e ombre. Ma quello che conta per lui è la sensibilità, il buonsenso del fotografo. Non ci sono limiti al racconto della realtà, ma ci sono i limiti di chi vuole raccontarla in modo fedele. Io parto da esattamente dalla realtà. E noi non documentiamo una realtà, ma un reale. Io, quando arrivo su una scena, cerco di avere un contatto diretto con chi fotografo, con la popolazione. Per cui devo mettere chi sto riprendendo assolutamente a proprio agio. Io non posso arrivare in un posto, in un campo profugo, per dirne uno, e iniziare a fotografare di qua e di là. Cioè, io non sono in uno zoo che sto fotografando gli animali. Deo un attimino capire, calarmi in quel tipo di situazione per cercare di andare a raccontare delle storie veritiere. Chi ovviamente la esegue dentro ci mette la propria anima, ovviamente, no? Altrimenti questa fotografia non trasmetterà nessun tipo di emozione. Esistono dei limiti deontologici che uno si impone e se non te le imponi e scatti lo stesso, esistono poi le fotografie nel cassetto.